Grazie Gaetano Stella, grazie al nostro coordinatore della consulta CNEL del Lavoro Autonomo e intanto benvenuti a tutti al CNEL. Questa è la casa dei corpi intermedi, questa è casa vostra e casa del mondo del lavoro dipendente, dei datori di lavoro, dei lavoratori, casa del lavoro autonomo. Quindi benvenuti a voi, ben arrivati, ben arrivati a tutti. Intanto breve schema della mattinata. La mattinata è divisa in quattro parti, i saluti introduttivi, uno l'avete già sentito, tra un po' ci sarà il mio. Seconda parte ci sono gli interventi istituzionali e qui abbiamo un vero e proprio parterre de loi, dalla Marina Calderone, Ministro dei Lavori e Politiche Sociali, al straordinario altro amico Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro del Ministero della Giustizia, a Valentino Valentini, che era da queste parti e eccolo, eccolo, e che è arrivato vice ministro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Poi Giulio Centemero, Marco Croati, Chiara Gribaudo e Marta Schifone, parlamentari responsabili del settore. Io ho qui questi, questi, Giulio Centemero, Marco Croati, Chiara Gribaudo, Marta Schifone. Poi ho, per la presentazione del rapporto, il professor Paolo Feltrin, coordinatore dell'Osservatorio delle Libere Professioni, Francesco Mariachelli, presidente dell'Istat e Alessandro Losina, oltre che essere nostro consigliere, è uno dei più autorevoli demografi italiani. E questa è la terza parte della presentazione del rapporto e con relativo dibattito. Poi, infine, c'è una parte di prospettica, le sfide nel futuro dei professionisti. Luigi Fabris, presidente ASA, Associazione per Statistica Applicata, Domenico Mantuan, direttore generale Agenas, Claudio Rolato, responsabile scientifico osservatorio di professioni, Pietro Francesco Delotto e Gaetano Stella. Direi un parterre del Roi. Mi scuso, collega, non avendoti, poi ti presenterai da solo. Allora, questa è De Bertoldi. L'età avanzata mi porta anche a delle carenze di memoria. Allora, che altro dire? Poche cose da presidente del CNE da un lato e da economista dall'altro. Il mondo dei professionisti in Italia è un pezzo importante dell'Italia. L'Italia è conosciuta nel mondo per avere un tessuto di professionisti straordinario. A volte lo si individua questa caratteristica come un atto di debolezza. Io l'ho sempre considerata come la nostra forza di questa rete di professionisti che spesso fa il lavoro che non fa bene, altrettanto bene fa lo Stato. E in questo connubio tra Stato non sempre efficiente e mondo delle professioni giocoforza efficiente, noi abbiamo basato il nostro successo. E da questo punto di vista posso dire con grande nettezza e chiarezza, noi siamo un paese di successo. Noi siamo uno dei paesi più ricchi al mondo, non essendo demograficamente il paese tra i più grandi al mondo, non siamo il settimo o ottavo paese dal punto di vista demografico, non abbiamo nel ranking internazionale le risorse economiche, finanziarie, minerali, di energia pari al nostro rango dal punto di vista del PIL. Quindi vuol dire che il nostro prodotto interno roto, la nostra ricchezza, il nostro benessere sono frutto del nostro capitale umano. E il nostro capitale umano è in gran parte nel nostro paese. Siete voi. E non lo dico perché siete qui, perché l'ho sempre detto nella mia vita di ricercatore. È questo mondo del lavoro autonomo, questo mondo del lavoro organizzato nelle professioni, negli ordini professionali, è questo mondo che si è costruito nel tempo, questo tessuto di competenze, di specializzazioni che tengono in piedi. Questo è il nostro paese. Quindi voi siete lo specchio dell'Italia, lo specchio migliore dell'Italia. E da questo punto di vista benvenuti al CNEL, benvenuti nella casa dei colpi intermedi. Essendo però lo specchio dell'Italia, subite anche voi gli andamenti del paese. E se l'Italia, per esempio, oggi è colpita da, non me ne voglio il professor Rosina, inverno demografico, anche voi siete colpiti come categoria, come tessuto, come rete, da, anche voi, da uno squilibrio, da inverno demografico. Cioè, turnover sempre più difficile, crisi delle professioni stesse, esigenza di tutela e di regolazioni che non c'era nella fase ascendente, nella fase di sviluppo. Domani qui avremo il che ci racconterà la sua visione del paese, un paese sempre più atomizzato. E nell'atomizzazione ovviamente il mondo delle professioni aveva un ruolo fondamentale, quello di aggregatore dei processi di crescita, di aggregatore dei processi di cambiamento. Adesso anche l'atomizzazione è in crisi. Anche l'atomizzazione è sempre più caotica e quindi non può non trovarsi anche trovare elementi di crisi anche nel vostro mondo. E da qui l'esigenza di, è stato detto del vostro presidente, aggregazione. Vuole dire mettersi insieme, ma anche di welfare, ma anche di ammortizzatori sociali, ma anche di funzioni di equocompenso, cioè di regole. E proprio questo è la funzione del CNEL, e cioè di ascoltare, elaborare, sintetizzare per poi proporre al policymaker, al governo, l'ascolto per le opportune decisioni. Ecco questa è la nostra funzione di ascolto, di analisi e elaborazione, per poi individuare insieme i percorsi da proporre ovviamente a chi poi deve prendere delle decisioni. I corpi intermedi sono questo. Abbiamo avuto più di un decennio di desertificazione dei corpi intermedi, di disintermediazione, non servivano più, non servivano più i sindacati, i datori di lavoro, i lavoratori, gli ordini, non serviva più questa riorganizzazione o questa sistematizzazione e i risultati li stiamo vedendo. Oggi c'è la necessità, e dirò solo un elemento, oggi c'è la necessità di rimettere insieme, direbbe Censis, i sciami positivi che hanno percorso questo nostro paese. E qui questa potrebbe essere la casa appunto dell'ascolto. E proprio ieri ero dal sottosegretario Butti a parlare di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale vista da molti come una grande opportunità, da moltissimi come un grande pericolo. Io sono per la prima una grande opportunità e non ho mai creduto al luddismo, non ho mai creduto al neoludismo, vorrei dire alla paura dell'innovazione, quella che portava nelle campagne inglesi agli inizi dell'Ottocento a distruggere i telai meccanici da parte di orde di giovani e meno giovani in nome di un mitico mai esistito, Ned Ludd. E sappiamo tutti com'è finita. Certo si distruggevano posti di lavoro nei telai manuali ma aumentava la produttività, aumentava il valore aggiunto del prodotto, aumentavano i mercati, aumentava la ricchezza, aumentava il benessere, aumentava l'occupazione del settore tessile inglese e così è stato in tutto il mondo. Questo è l'effetto produttività, l'effetto innovazione. Io credo che anche oggi il neoludismo non abbia ragione d'essere nei confronti dell'intelligenza artificiale, anche se noi dobbiamo governare il fenomeno. Il fenomeno va governato, soprattutto va governato, e questo è il punto, nelle professioni più sensibili, più di qualità, più elevate. I professionisti, lavoro autonomo, perché è proprio in questi segmenti di attività che l'intelligenza artificiale avrà maggiore impatto. Starà a noi, se questo impatto sarà distruttivo e squilibrante, oppure di qualità, di qualificazione, di miglioramento, di efficienza, per migliorare ovviamente la qualità del lavoro, la qualità dei redditi e quindi la quota di mercato di questo mondo, del vostro mondo. Oggi io dico sempre chi ha una rete, lo dico alla mia amica marina, che è la regina delle reti. Chi ha una rete ha un tesoro. Perché il nostro mondo è un mondo di reti. Fuori dalle reti non esistiamo. E chi ha una rete ha un tesoro è la vostra rete. Le vostre reti sono forse uno dei più grandi tesori che è il nostro paese. Che non può essere disperso, che non può essere svinito, che non può essere cancellato, che non può essere neanche denigrato, ma deve essere valorizzato. Ecco, allora questo è un momento conoscitivo, l'ottavo rapporto sulle professioni. Qui avete il meglio della rappresentanza politica, dicevo il parterre del Roi, ma anche il meglio della scienza economica, sociologica, demografica italiana. E quindi questo è il modo migliore della consapevolezza di chi siete, di chi siamo e soprattutto di quello che potrà succedere nei prossimi anni. Ecco, non devo dire nient'altro, se non che guiderà tutti questi quattro momenti la nostra giornalista Maria Carla Di Cesare del Sole 24 Ore. E ripeto, finito il primo momento, quello dei saluti, adesso avremo gli interventi istituzionali, poi la presentazione del rapporto con i relativi interventi e i relativi discussant, e infine un ragionamento sul futuro. Mi candido, candido al CNEL ad ospitarvi l'anno prossimo qui per il prossimo rapporto, quindi se il Presidente Steva vorrà, organizzeremo qui di questo stesso periodo. Il prossimo rapporto è un impegno che già prendo con tutti voi naturalmente, perché questo è il nostro compito, questa era la nostra missione. Benvenuti al CNEL. Grazie ancora.